Ok, saluto tutti i lettori di Spoleto Sport, vengo qui proprio con grande vita, ho un motto, lavoro, lavoro e poi ancora lavoro e spero di fare veramente bene perché il progetto è ambizioso, la città mi piace, ho detto prima in conferenza stampa i tifosi sono di categoria superiore, quindi un saluto ancora e niente, bene così.